Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio oggi presentare Sutori, che è una linea del tempo molto interessante e di ultima generazione. Questa applicazione permette di costruire realtà aumentata nello sviluppo di un progetto educativo. Questo è il sito Sutori, vi collegate al sito www.sutori.com e dovete registrarvi, io naturalmente sono già registrata, ma prima di passare alla presentazione di Sutori volevo dirvi che cosa servono le linee del tempo quando vogliamo trattare in classe di realtà aumentata. Le linee del tempo in realtà aumentata sono AR perché possono aggiungere allo scorrimento temporale contenuti multimediali, immagini, testi, video, quesiti e idee. Forniscono poi una visione di insieme su un argomento o un evento e ne descrivono lo sviluppo. Si basano su cronologie e sono diverse quindi dalle mappe, hanno grande effetto comunicativo immediato, possono essere collaborative, sono inclusive, implicano progettazione, sono efficaci se realizzate con applicazioni, pongono questioni, scelgono e ricercano argomenti pertinenti ad un tema, favoriscono la creatività. La loro utilità per creare itinerari, per definire gli step di un'attività, per produrre cronologia di eventi, per proporre passaggi utili allo svolgimento di un'attività, per realizzare portfolios, per dare l'idea di storie e produrre storytelling, per implementare procedure. Quando usare le linee del tempo nella progettazione EAS, episodi di apprendimento situati o FLIP, sia nella fase preparatoria, il docente potrebbe proporre una timeline incompleta su di un argomento agli studenti e chiedere di completarla nel lavoro in classe o in homework. Nella fase operatoria, gli studenti lavorando in gruppo creano una timeline su un tema anche inserito nel contesto di sviluppo della loro attività produttiva. Nella fase ristrutturativa, gli studenti creano un portfolio del loro operare con una linea del tempo che raccoglie gli step intrapresi e i loro prodotti ed esplorazioni. Ritorniamo ora a Sutori, come vi dicevo bisogna fare logging, dopodiché go to my story. E voi vedete che qui ho tutte le storie che ho precedentemente creato, più la possibilità di creare una nuova story. Quindi qui ho la possibilità di inserire il titolo, di inserire attraverso il più una serie di elementi, testi, immagini, video, audio, forum, embed, quesiti a risposta multipla, quiz matching e quindi anche altri elementi come un needing e che cosa hai conosciuto, saputo. Quindi una volta completato la linea del tempo, adesso ve ne mostro un esempio di una che ho fatto, questa può essere condivisa, questa linea del tempo, e può essere attribuita anche alla classe dopo aver creato la classe come docenti. Posso, come vedete in classes, creare la classe, la mia classe a cui attribuerò ad esempio una linea del tempo da completare. Ecco, vado in stories, volevo mostrarvi una delle mie linee del tempo, ad esempio questo che è un corso di formazione per docenti, e vedete che ho inserito tutti gli elementi in successione, tutti gli elementi che ho prodotto durante questo, il corso, durante il corso. Quindi è una raccolta in ordine cronologico di quanto è stato proposto dagli insegnanti. Alla fine ho la possibilità di inserire una conclusione nella linea del tempo per riassumere tutto quanto è avvenuto in questa linea del tempo e in questo processo. Se poi voglio condividere in scrittura questa linea del tempo vado in share e come vedete mi dà la possibilità di invitare altri a editare la storia. Posso attribuirla alla classe, quindi gli studenti potranno vederla e commentarla e commentarla. e poi posso quindi condividerla in Google Classroom per posta nei social, posso, ho il link, mi dà anche il link per, di pubblicazione di questa storia. e ho anche il codice embed per poterla embeddare nei miei siti. Per quanto riguarda la classe, a voi vedete che io ho attribuito questa linea del tempo alla classe, che è la classe blu, che ho chiamato come classe blu. Ecco, buonasera a tutti.